Domani venerdì 26 novembre è il venerdì del Black Friday. Il centro storico di Pesaro si presenta tappezzato di insegne e di sconti per questo che è ormai diventato un appuntamento tradizionale ad un mese del Natale. Diverse occasioni in diversi settori merceologici del commercio. Abbiamo fatto un giro tra i commercianti del centro storico per capire come si vive questo momento ad un mese dal Natale. È un momento di grande attesa, di grande aspettativa un po' per tutti, per noi, per i clienti. Devo dire che anche se l'interesse grande è sempre per la vendita online, però speriamo che qualche cliente voglia anche accogliere gli sconti che andremo a fare. Cercheremo di farli proprio nel weekend dedicato, quindi da domani che è venerdì a domenica saremo aperti anche il pomeriggio proprio per cercare di portare più gente possibile, dargli la possibilità di venire a vedere su cosa faremo lo sconto e quanto. Siamo al negozio di Sartoria, fratelli amati, di Via Branca. Anche qui, Black Friday, da domani questo appuntamento. Che appuntamento è per i commercianti? Guarda, noi stiamo già incominciando a fare qualche sconto, dico la verità, però ci aspettiamo un weekend molto affollato perché chi entra chiede sempre degli sconti e quindi aspettano questo weekend di Black Friday. Voi siete un'attività particolare che ha aperto praticamente a ridosso del peggio della pandemia. Ora si comincia a intravedere dei segnali di miglioramento anche nella propensione agli acquisti. Sì, perché sicuramente la gente in questo periodo è stata a casa, quindi ha voglia di comprare e stiamo vedendo dei buoni risultati, soprattutto adesso che inizia il Natale. Non è proprio rivolto a noi commercianti e venditori di abbigliamento, però diciamo che anche noi partecipiamo per fare un regalo ai nostri clienti. Comunque è un modo di essere cortesi perché comunque è entrato un po' nella mentalità, diciamo, di tutta la popolazione, tra virgolette. Noi cerchiamo sempre di essere coerenti e fedeli comunque al nostro cliente finale, che è quello che si merita comunque delle volte, come ho ridetto prima, un regalo. Perché è un modo proprio per partecipare, per far muovere anche comunque gli acquisti in tutta la città. Io non sono favorevole a sconti altissimi perché non ci credo per niente, come in tutte le categorie. Forse l'unica cosa è la tecnologia che si può vedere esattamente. Anche i negozi degli articoli per l'infanzia partecipano al Black Friday. Qui siamo da Cucu, in Via Almerici. Che momento è questo weekend per i negozianti? Allora, anche noi appunto partecipiamo a questa iniziativa e siamo molto contenti di poter offrire questa cosa ai nostri clienti. Quindi questa iniziativa del Black Friday parte da oggi fino appunto a domenica e abbiamo degli sconti su tanti articoli selezionati e speriamo appunto che i nostri clienti siano contenti di questo e ci vengano a trovare numerosi. E' il secondo Natale di ripartenza? Forse quello di ripartenza un po' più sostenuta. Che tipo di Natale vi aspettate? Allora, noi ci aspettiamo un Natale diciamo migliore naturalmente dello scorso. Per noi personalmente è il primo Natale perché la nostra apertura è stata a maggio di quest'anno, del 2021. Però ecco, fino ad ora abbiamo avuto una buona risposta. Quindi speriamo appunto che anche per il Natale possa continuare ad essere così.